Nel video di oggi vediamo una funzione molto particolare, cioè quella di ruotare e allo stesso tempo copiare un oggetto intorno ad un cerchio. In realtà i diversi comandi che vi farò vedere oggi sono molto utili per compiere tanti altri tipi di operazione, però noi intanto oggi lo applichiamo a questo tipo di disegno. Questo video l'ho fatto perché un utente mi ha chiesto proprio come eseguire questa funzione e mi ha chiesto se fosse possibile farla su Affinity Designer perché sapeva che si potrebbe fare su Illustrator. La risposta è sì, che si può fare, oggi vi faccio vedere come. Vi dico questa cosa però perché è un invito a chiedermi delle cose, cioè se ci sono delle cose che volete imparare a fare e che non sapete fare, chiedetemele e io proverò a fare un video. Oppure a volte vi risponderò con i commenti, però riceverete sempre una risposta da me, ovviamente se so come rispondervi e se so come aiutarvi. Iniziamo quindi con l'argomento di oggi. Abbiamo detto come ruotare un oggetto e copiarlo allo stesso momento intorno a un cerchio. Quindi intanto dobbiamo andare a disegnare il nostro cerchio e il nostro oggetto. Andiamo sullo strumento Elisse. Per disegnare il cerchio vi ricordo che dovete tenere premuto maiuscolo o Shift, si chiama, e trasciniamo. Ora vado a prendere un quadrato, un rettangolo, e sempre tenuto però Shift appunto disegno un quadrato, e poi lo ruoto. Io ora ovviamente sto facendo delle figure a caso, voi scegliete la figura che più preferite o che vi serve per il vostro disegno. Ora vado un attimo a ricolorare queste due figure. Vado su Campioni e facciamo la grigia. Questa facciamo la azzurra, anche se è poco importante questa cosa qua. Ora dobbiamo assicurarci che queste due figure siano allineate, quindi le seleziono tutte e due. Clicco qua e faccio allinea orizzontalmente. Ecco, non erano perfettamente allineate e ora lo sono. Clicco fuori. Cosa vogliamo fare noi adesso? Noi vogliamo ripetere questa figura tutta intorno al cerchio. Quindi noi selezioniamo la nostra figura e una volta che è selezionata, spingiamo su Ctrl J. Ah, sembra che non sia successo niente, ma se andate a vedere i livelli vedete che io ho semplicemente copiato il mio rettangolo sul mio stesso rettangolo. Quindi ora qui ho due rettangoli uguali. Ora che io ho il mio rettangolo selezionato, cosa succede? Lo devo ruotare intorno al cerchio. Se io ora provo a ruotarlo da qui, in realtà vi faccio anche vedere, vedete che lo ruoto su se stesso. Ora torno indietro con Ctrl Z e se avete visto il mio video precedente in cui parlavo di rotazione lo saprete, noi possiamo cambiare il punto di rotazione. Per farlo dobbiamo attivare l'origine trasformazione. Dobbiamo essere sulla nostra figura, attivare l'origine trasformazione. E ora, dato che noi volevamo, diciamo, ruotare questo rettangolo intorno al cerchio, dobbiamo portare questo punto al centro del nostro cerchio. Per farlo ci aiutiamo con le guide che si hanno grazie alla calamita. Calamita che vi ho detto di tenere sempre attivata. Vi faccio vedere qua. Vedete, io ho l'effetto calamita attivato. Se cliccate qui sulla tendina, io ho selezionato praticamente tutto. In questo modo ho tutti questi effetti attivati. E la calamita mi guida, ad esempio in questo caso, mi ha permesso di posizionarmi direttamente al centro del cerchio. Ora riclicchiamo qua. Ruotiamo quindi la nostra figura che ora ruoterà intorno al cerchio. Ora la ruoto un pochino a caso. Ok, ho deciso che la voglio qua. Una volta che l'ho ruotata, ora pigiamo su Ctrl J. Vedete? Io ora le copio tutte intorno al mio cerchio e se continuo, mi continuo a copiarle. Vi faccio vedere adesso una cosa. Cancello queste figure, diciamo, quelle che ho disegnato. Mantengo solo quella originaria. Anzi, cancello tutto che faccio prima e la rifaccio. Perché vi voglio far notare una cosa. Ora seleziono il mio quadrato, lo ridisegno, lo giro, lo coloro di un qualsiasi colore diverso da quello del cerchio. Facciamo, guarda, proprio il nero. Torniamo un attimo qua. Strumento sposta. Allineiamo le due figure. Sposto un pochino il mio quadrato e ora lo copio con Ctrl J. E ora che ho il mio quadrato copiato, sposto il punto di origine e trasformazione al centro. Quando io ruoto il mio quadrato, se io lo ruoto di multipli di tre, praticamente riuscirò a fare una cosa molto omogenea. Mi è un po' difficile spiegarlo a parole, quindi io ve lo faccio vedere adesso. Ruoto il mio quadrato. Quando lo ruoto, vedete che qua compare un numero 29, 26, cioè è il raggio. È il raggio di quanto io sto ruotando il mio quadrato. Dato che l'angolo completo è fatto di 360 gradi e il numero più piccolo per cui è divisibile 363, se io mi attengo ad avere un multiplo di tre, riesco ad avere una forma omogenea intorno al mio cerchio. In questo caso, ad esempio, io vado a vedere di mettermi su 15, per dire, su 15 gradi di rotazione. Ok, ora l'ho fatto, mi allontano un pochino per vedere meglio e ora pigiamo sul nostro CTRL-J. Vedete? Lo copio, lo copio, lo copio. CTRL-J, ogni volta che lo copio perché sto pigiando su CTRL-J, vedete che ho fatto in modo che i miei oggetti siano posizionati in maniera omogenea intorno al mio cerchio. Con questo sistema potete andare a realizzare delle figure complesse molto carine. Ho notato adesso un piccolo errore che avevo fatto perché, secondo me, non avevo allineato bene il cerchio e il quadrato. Infatti, se vedete, qui sono più vicina e qui sono più lontana. In ogni caso, l'importante era capire il concetto. Vi faccio vedere un tipo di figura molto carino che potete realizzare utilizzando questa funzione. Per farlo cancello tutto, così riparto un attimino da zero e rivediamo per l'ennesima volta tutto. Ok, disegno un cerchio. Disegno sempre un quadrato. Ora disattivo un attimo l'origine trasformazione perché prima è quello che mi ha fatto sbagliare l'allineamento perché mi ha allineato rispetto a un altro punto e non rispetto al centro delle figure. Quindi, in questo caso, diciamo all'inizio, voi origine trasformazione dovete disattivarlo e poi solo attivarlo nel momento in cui girate il vostro quadrato intorno al cerchio, il vostro quadrato o una qualsiasi altra figura. Allora, selezioniamo queste due figure. Ok, ora ce le ho belle allineate. Seleziono la figura che voglio ruotare. Ctrl J. Attivo l'origine trasformazione. La sposto al centro del cerchio. Ruoto. Mantenendo, appunto, come vi dicevo, se possibile, un multiplo di tre. Facciamo 33. E poi Ctrl J. Perfetto. Ora faccio un'altra figura. Come vi dicevo, disattivo un attimo qui, ricliccandoci. Allineo questa figura al cerchio. Clicco sulla figura. Ctrl J. Attivo l'origine trasformazione. Sposto questo punto al centro del mio cerchio. Ok, ora ci sono. Ruoto. Sempre di un multiplo di tre. Quindi ora abbiamo fatto, ad esempio, 15. E poi vado a Ctrl J. E così potete continuare con varie figure, insomma, a creare figure estremamente particolari utilizzando questa funzione. Per esempio, qua ora levo il riempimento, metto solo il tratto. Qua potrei giocare anche all'interno del mio cerchio facendo la stessa identica cosa. Spero che il video di oggi vi sia tornato utile e vi sia piaciuto. Ci risentiamo al prossimo video.